Con una delibera firma dell'assessore Giuseppe Narducci, il Comune di Napoli scende in campo contro il racket per sostenere imprese e professionisti che hanno scelto di non cedere alle intimidazioni camorristiche ed hanno avuto il coraggio di denunciare. Per loro sarà più semplice partecipare agli affidamenti in economia e agli affidamenti di lavori e servizi fino ad un milione di euro attraverso l'inserimento in un elenco istituito dal Comune che in base all'importo dell'appalto si articola in cinque livelli di intervento. E' un sistema di incentivazione che mira a ripristinare la piena libertà e concorrenzialità del mercato compromesse dall'intervento delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e produttivo cittadino. Per accedervi basta aver denunciato l'estorsore, aver avviato il relativo procedimento penale e presentare una domanda al servizio legalità e beni confiscati incardinato nel gabinetto del sindaco che provvede anche ad accertare il possesso dei requisiti. L'elenco sarà istituito entro il 30 gennaio ed una prima verifica sul funzionamento dell'iniziativa è fissata al 30 giugno 2012. Da oggi sarà possibile essere iscritti in un elenco del Comune che garantirà a queste imprese un percorso preferenziale per ottenere affidamenti di nostri lavori. E serve poi in concreto a ristabilire in verità situazioni di libertà e di rispetto della concorrenza che sono state violate nella realtà.